Star Life Telescopic HydroCleaner, il sistema telescopico tutto in uno che si allunga, insapona, strofina, pulisce, risciacqua e asciuga, tutto con un unico sistema compatto e portatile. Ora puoi pulire anche i punti difficili in cui prima non riuscivi ad arrivare, in modo facile, veloce e sicuro. Star Life Telescopic HydroCleaner si allunga fino a più di 5 metri, abbastanza da raggiungere le finestre al secondo piano. Rimuove la muffa da grondaglie e finiture e le fa splendere di nuovo. Il vano per il sapone integrato rilascia all'istante la giusta quantità di sapone, mentre migliaia di setole resistenti unite agli intensi getti d'acqua puliscono in profondità facendo risplendere tutto come nuovo. Strofina, solleva e pulisce lo sporco e il grasso da angoli e fessure su mattoni e pietra. Anche il legno, verniciato e non, si pulisce facilmente. I pannelli solari possono perdere più del 50% della loro efficacia quando sono sporchi. Ora puoi pulirli facilmente e in modo sicuro. Star Life ti assicura il sistema pulente perfetto anche per i veicoli più grossi. Le setole pulenti sono abbastanza resistenti da pulire paraurti, fari e gomme, ma abbastanza delicate da non graffiare la vernice dell'auto. Usa la parte in schiuma per rimuovere insetti e grasso da vetro e superfici delicate, poi gira la spazzola per far brillare il parabrezza con il tergivetro. Arriva completo di manico extralungo in schiuma, setole pulenti professionali, spugna in schiuma e in gomma. Puoi scegliere tra l'asta di 5 o di 7 metri, tutto al prezzo vantaggioso che vedi sullo schermo. Riceverai anche l'adattatore per angoli, perfetto per raggiungere i punti difficili alla giusta angolazione per il massimo della potenza. E non è finita, includeremo anche il vano portasapone gratis, completo di valvola on-off con regolatore programmabile, così rilascerà la giusta quantità di sapone che ti serve. Starlife Telescopic HydroCleaner, il sistema versatile e pulente. Chiama il numero in sovraimpressione per avere ulteriori informazioni. Anche noi abbiamo le ali, sono ali mosse dalla passione, ogni volta che ci apriamo la vita. E non importa quanto grandi siano queste ali, ma dove riescono a portarci. Matt nutre il tuo benessere. Cosa desideri davvero? Dare un futuro a figli e nipoti? Scegli quello che per te vale di più. Ad aiutarti con i tuoi progetti di vita ci sono i consulenti Fineco, una rete di oltre 2.900 professionisti in tutta Italia. Vieni a conoscerli nei Fineco Center. In ogni conflitto i bambini sono i più vulnerabili. Quando noi arriviamo da loro significa che tu li hai raggiunti e li hai salvati. La tua firma ci porta al loro fianco. Dona il tuo 5 per mille all'Unicef. Parole, parole, parole. Parlarne è importante. Basta parlare. Qualcuno deve fare qualcosa. Un solo pannello solare. Ma veramente? Dovreste riempire tutto il quartiere. Ma non è ora che qualcuno si alzi e... Lo stiamo già facendo. Tranquillo. Far funzionare una nuova energia. It's on us. Air. Voyage privé. Il tuo viaggio inizia qui. Garantitissima. Italianissima. Tranquillissima. Fantasticissima. Arredissima. Dov'è la vita? È issima. Paghi nel 2025 in 24 rate ad interessi zero. La Casa Acrobatica presenta... Se potessimo condividere il piacere di stare insieme... Assaggia! Come la faccio io non la fa nessuno! Ristruttura il tuo condominio con Acrobatica. Possibilità di finanziamento fino a 160.000 euro. Luca, sei a casa? No, perché? Stanotte qualcuno ha provato ad entrare a casa mia dalla finestra. Oddio. Controllo se da te è tutto ok? Grazie, ma io ho l'allarme Verisure. Mi avvisano e intervengono se succede qualcosa. Sai che ti dico? Devo metterlo anch'io. Scegli Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Chiamalo 800-9494-9494 o vai su verisure.it. Pesto Barilla presenta la famiglia Limonetti. Amano le gite fuori porta? Con un tocco di freschezza in più. E amano il pesto? Con un tocco di freschezza in più. Pesto Barilla, basilico e limone. Una cremosità unica con una delicata nota di limone in più. Il gusto dell'estate amato da tutti. I mal di testa non sono tutti uguali. Quando ti opprime puoi provare Moment 200. Quando è forte, Moment Act in capsule molli. Se hai mal di testa da cervicale, Moment All. Per il mal di testa da congestione nasale puoi provare Moment Xin. E per il mal di testa e i dolori da ciclo, Moment nella confezione rosa. Moment spegne i mal di testa. Sono medicinali che possono avere effetti indisidrati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo da Angelini Pharma. Cremoso yogurt più biscottini al cioccolato. Yogurt alla fragola più mandorle caramellate. Cremoso yogurt più croccanti buffer al cioccolato. Oh mai Yomo. È buono. È Yomo.